C'è un mondo di persone che si occupa di te. Sostiene la cultura della sicurezza e dà valore al tuo lavoro. Assicura il lavoratore dai rischi di tutti i giorni. Garantisce assistenza a chi ha infortuni sul lavoro o malattie professionali. Protegge la tua salute con la ricerca scientifica e tecnologica. È il mondo INAIL e tu sei al centro del nostro impegno. Grazie.